Stamone a casa. Stamone a casa, non cuglioniamo, chiss'e no pure a noi a state ne giocamo. Non è scemo così bugliano, per qualsiasi minchiata ne autocentifichiamo. C'è gente che i cani non passi a passare mai e li ha buttato, vuole gli amici in cui ho una che ferirono i cani al lato. D'un canicetto io ho una cara lingua e fuori, partivo un fotte di marina e rubò la spada fuori. C'è gente che fa spisi e spessate, manco siamo i cinquanta ionna che non mangiate. Poi ci sono magari i geni che in palestra non l'hanno fatto mai, si fermano i carabinieri e ci dicono tu vai, ci rispondono faccio il spot perché la sera sono i piatti di maccarrone e magari l'hai. Figlioli, resistiamo questa cosa per ionna, pregiamo signore e pura madonna, che tutto come la prima donna, se ne mettiamo di impegno tutti, le tale è più fotte, e tu con la virus se ne fotti, dicete cilla a tutti! Sì! 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 Grazie a tutti